Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 1 maggio, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti dal 54 al 58. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi. Non è costui il figlio del falegname, sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e le sue sorelle non stanno tutte da noi, da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo, ma Gesù disse loro un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua e lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Oggi per la liturgia celebriamo la memoria di San Giuseppe, lavoratore, ci troviamo in pieno tempo pasquale ed entriamo anche nel mese di maggio dedicato a Maria. Dunque oggi è un giorno in cui possiamo presentare a Dio le nostre speranze, soprattutto il pensiero e la preghiera per tutti coloro che in questi giorni hanno perso il lavoro, per tanti che non l'hanno mai avuto e lo cercano e per tutta la situazione di prova che stiamo vivendo in questo tempo. Il Vangelo ci mostra come il lavoro identifichi le persone, dona uno specifico, mostra una qualità della persona. Gesù è per i suoi compaesani più il falegname, il carpentiere che il maestro. Questo non solo ci dona la possibilità di contemplare l'umiltà del figlio di Dio che si mette a lavorare come tutti, ma ci mostra l'importanza per tutti noi di avere un lavoro che ci dona un'identità anche, una dignità, ci rende utili alla società, al mondo intero, con un nostro specifico. Il lavoro è necessario per l'uomo proprio per questa qualifica che dà alla persona. Il testo poi ci informa che Gesù è motivo di scandalo per i suoi compaesani e questo ci dà la possibilità di poter ragionare sulla qualità della testimonianza nel lavoro. Il lavoro è una bellissima opportunità per testimoniare la nostra fede, attraverso il nostro impegno, la nostra disponibilità agli altri, la nostra onestà anche nelle azioni che compiamo. Ma è importante che questo testo, questo Vangelo, qualifichi il significato di questa testimonianza che noi possiamo dare, perché si dice che queste persone che conoscevano Gesù, l'avevano visto lavorare con il suo padre nella sua bottega, ecco, sono scandalizzati da Gesù. Il termine scandalo, interessante, emerge in questo testo. Significa in greco motivo di inciampo, cioè qualcosa che fa cadere. Ecco, allora ha a che fare questo termine con la testimonianza che ci fa dare il Signore anche nei posti di lavoro, dicevo. Perché? Perché se proviamo a pensarci, Gesù di per sé non può cadere. Però lui può far cadere qualcosa. Che cosa? Fa cadere la corruzione, l'omertà, la discordia, la farsa umiltà, l'arroganza. Questo fa cadere Gesù. Allora anche noi, magari nei luoghi in cui siamo chiamati a cooperare con Dio per il bene di tutti, perché questo è il lavoro, anche noi possiamo essere, come Gesù, occasione di caduta delle opere, delle tenebre. Perché di fronte alla testimonianza di un cristiano che è tutta luce, perché è alter Christus, cioè è Cristo, nel senso porta la presenza luminosa di Cristo perché è battezzato nella Pasqua del Signore, beh, di fronte a questa presenza non si può restare indifferente. O ci si mette per la luce, e la luce, oppure le tenebre emergono. Allora ecco che il Signore diventa questione di scandalo, fa cadere il potere delle tenebre. E il Signore vive in noi e nel nostro lavoro e tante volte, e grazie a Dio, e speriamo, il nostro lavoro, la nostra presenza nel mondo provoca questo scandalo per il potere delle tenebre. Preghiamo allora, offrendo questa giornata, come dicevo, per coloro che vivono un fallimento nel lavoro, che hanno perso il lavoro in questo tempo, o che vivono anche male il loro lavoro, anche testimoniando una fede cristiana. Preghiamo, preghiamo con l'orazione della colletta che ritorna nella liturgia di oggi lungo tutto il corso di questa giornata. O Dio, che nella Tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, fa che per l'intercessione e l'esempio di San Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che tu ci affidi e riceviamo la ricompensa che tu ci prometti. Amen. Buona giornata.